Un nome è diventato assoluto, come un superlativo. Il calcio italiano sta per perdere il meglio che si fosse mai visto nel ruolo di playmaker. Quattro scudetti e una Coppa Italia, 116 presenze, 19 gol in Serie A con la maglia bianconera, numeri e trofei che però non raccontano quasi niente di lui, della sua grandezza. Il primo che vuole vincere è scelto l'aiuto da questo. E' tutto pronto. Va Pirlo a mea! Pirlo! Una mezza maledetta di Pirlo! Il primo che vuole vincere è scelto. Uno zero! Il portapirlo! Direttamente sul calcio di posizione! Quarto gol in campionato a Beto per lui! Mamma mia! Il primo che la tira! La piazza di Pirlo! Pirlo! Insidioso al Rete! Grandissimo gol di Andrea Pirlo, il direttore d'orchestra. La riposta breve, parte Pirlo, Rete! Un fantastico! Si piazza netto, parte Pirlo, destro giro! Rete incredibile! Ancora lui! Non è possibile! Incredibile! Sull'altro angolo, Juventus! Si piazza! Si piazza, fiazzona! Parte Pirlo e Rete! Rete! Pirlo! Altro capolodoro! L'ultimo cassone della Juve, dentro il pallone per Vidal. Si libera Pirlo e pronto a tiro, lo aspetta con il tempo! Pirlo! Pirlo! A due secondi! Due secondi! Due secondi! Due secondi nella fine del tempo! Vidalgo è un cuore classe assoluto in Italia, perché solo un giocatore come Pirlo prende palla a due secondi dalla fine e da 27 metri te la mette nell'angolo basso.